ragazzi oggi vi mostrerò l'inutilità di questo cavetto che è un aux usb viene dato per le macchine ma può essere usato anche su stereo eccetera il problema è che non funziona se noi andiamo a mettere nell'auxin adesso vi farò vedere l'abbiamo collegato nell'auxin della macchina e gli abbiamo messo un usb andiamo a vedere funziona proprio raramente su pochissimi modelli di vettura infatti vedete ci rileva l'aux ma non ci va a rilevare la chiavetta anche perché non ha modo di rilevarla quella è un'uscita audio può sentire una sorgente già che porta audio di suo come un cellulare mp3 quindi questo cavo è totalmente inutile non compratelo se vi è stato utile questo video lasciate un mi piace iscrivetevi al mio canale ciao